eccoci qui nel nuovo video di solito non faccio mai i video del giorno dopo così per oggi c'è diversa cosa da dire onestamente scusate c'è la voce un po' rauca ma c'è un mal di gola incredibile influenzato al massimo però la vita va avanti uguale c'è una diversa cosa di oggi ho letto una marea di freserie stronzate varie prima de santis ha detto che questa roma non è migliorabile siamo al quarto posto per adesso aspettando l'atalanta e ci hanno anche il coraggio di che questa roma non è migliorabile dopo ieri beh basta solo lì che zecco ieri è stato impresentabile a mio avviso ed evidente che secondo me c'è c'è bisogno di un'altra punta perché canici come dicevo nel video di ieri non è assolutamente attendibili per carità basta guardare i terzini che sono alquanto obbobiosi e ho letto anche le anzi ho letto ho visto che totti ha messo l'aica un tifoso che diceva vendete florenzi e io posso che accodarmi a quello che ha scritto quel tifoso e al like le totti ho detto una marea di stronzate anche su totti la gente che va contro ma tanto quello se sa perché da quando ha fatto quella conferenza stampa di addio alla roma ormai ce l'hanno quasi tutti a morte con lui scordandosi il passato in me napole baesau io invece non scordo mai niente chi ha fatto più che bene alla roma per me rimane sempre nel cuore qualunque cosa esso dica totti e dei rossi rimarranno per sempre i miei capitani e nessuno mai potrà scaffirli anche quelli che verranno in seguito che poi florenzi chiamarlo capitano per me in insulto la categoria alla categoria dei capitani onestamente perché uno che ride anche ieri ho visto si metteva la mano davanti e ve li diva ma che voi dite porca puttana tu qui si rischia anche che si arriva in champions un'altra volta e li di molto qui c'è bisogno di lavorare e per bene anche porca puttana altro che per me totti non ha fatto niente di eccezionale tutti scombussola l'ambiente totti ha rotto il cazzo totti dei qua totti però quando faceva tutti quei gol olti 300 e passa gol tutte a esultare tutti a piangere le lacrime del coccodrillo allora a sto punto perché se no si spiega e io invece la penso entramente come capitano perché se sta roma non va non lotta per lo scuretto evidentemente dei problemi ci sono e dei miglioramenti vanno fatti ma tanto a gennaio purtroppo sono abituato con la roma che se fanno davvero pochi movimenti io riguardavo su wikipedia tutti i movimenti fatti negli ultimi 4 5 anni e infatti sempre uno due mossi per esempio il campionato di 16 di asset solo grenier e togli forse e mo sbagliata la grande perché quella stagione arriviamo secondi con 87 punti e forse con qualche miglioramento in più avremmo potuto anche vincere qualche coppa italia che ne sa e invece ci siamo accontentati e nemmo vinto ne merito cazzo e mi ricordo un mese infatti perdemmo tutto quanto coppe tutto sopra coppe e tutto quanto il resto questo è stato sempre il punto no del mercato di gennaio sempre poca roba sempre mai voi ben i colpi buoni insomma adesso io indico le fa un colpa juventus perché non siamo economicamente alla pari quindi però almeno due tre movimenti per ovviare a questi limiti onestamente andrebbero fatti altro che fesseriere le santis che già da portiere mi faceva incazzare come non pochi ma lasciamo perdere e niente questo era quello che volevo dire oggi secondo me questa roma c'ha ampi margine nel miglioramento un mese soprattutto nell'ambito della rosa secondo me possono giocare sempre gli stessi che si vede se avessi visto letteralmente ieri che vanno letteralmente in confusione se parla anche di una cessione di under ma onestamente in questo momento le cessioni io parlerei più di acquisti onestamente ce n'è ampiamente bisogno ma fanno male quei commenti tanto il bologna in vantaggio anzi annullato col barbara e fanno male quei commenti che ancora criticano totti questo quell'altro ma non capendo che invece il problema è alla base della società che non gliene frega un emerito cazzo onestamente della roma se l'ha capito e io vedo l'ora che vendono sperando che almeno questo sia meglio ma vediamo un po io ho qualche dubbio sperando che almeno nei prossimi dieci anni festeggiamo la cazzo le coppa perché è quelli che contano noi piazzamente onestamente certo e contano anche piazzamente piazzamente per andare in champions in europa league che si chiama però che puoi vedere sempre quelli alti alzare coppa e te col cieli non te ne mani onestamente e quindi niente oggi sono altamente deluso oltre che altamente malato però la legge sette cose ragazzi fa proprio male al core a tutto quello che è stato per me totti qualunque cosa dice o fa che ha sempre ragione o quasi e niente quindi quando dite che totti al mare della roma pensateci sempre dieci volte perché ha fatto davvero per me sempre il numero uno rimarrà e secondo me nessuno riuscirà mai a superarlo anche perché dei giocatori davvero boni onestamente raramente ne vedremo sperando che questo americano che vedrà adesso sia molto migliori e pensi al bene della società e non del merchandising perché onestamente io mi sono rotto il cazzo le guardate che vincono sempre la razza che fa nove vittorie consecutive merode altamente il cazzo onestamente su questo me punteria al dito non sulle parole totti sui laccare totti su quelle quali io onestamente voglio una roma che ritorni a essere protagonista in tutto e per tutto non solo sui social su che alla fine lasciano il tempo che pur che trovano onestamente se così perché contano i risultati per carità la roma storicamente non è mai stata una squadra vincente però porca la grande puttana 10 coppitalia anzi 9 9 9 9 9 9 coppitalia l'ha imparata a casa 3 sculetti meno bene o male l'ha imparata a casa un par di supercoppa italiana l'ha imparata a casa io il nico la vince sempre però porca puttana tu qui ormai mi sono rotto i coglioni onestamente quindi è ora di darsi una mossa su tutti gli ambiti e soprattutto sta uniti di spaccamenti totti l'antitotti del qua della me totti ha semplicemente ragione su quello che ha scritto quel diffuso io lì con l'anzia sa quanto tempo anche su questi video onestamente che per me florenzi un giocatore da roma la serie b e si è visto anche ieri ho visto certi voti sul giornale 4 4 e mezzo mi sembra anche un po troppo alti onestamente io cominceria da anche un bel due dal due in poi porca troia anche lo stesso color per me è super valutatissimo ma perché segna supponizioni però difensivamente fa ampiamente cacare porca puttana e io penseria fa questi cambi onestamente e ma deluso anche a me anche un pochetto fonseca perché secondo me era meglio che florenzi stesse in panchina purtroppo santone se è infortunato ma vedremo quando ritorno se se florenzi va panchina ma non credo e niente scomincia con la depressione più totale questo 2020 aspettiamo notizia del mercato ma tanto tu vi leggo sempre stessi nomi non credo si facciano grandi cose per quanto riguarda la roma per quanto riguarda al gubiteria di darsena sbrigata perché tempo passa c'è tempo da perdi anche tu li siamo altamente in alto mare onestamente anche oggi niente specialità perché da oggi la festa siamo perde però domani porca puttana qualcosa voglio perché se noto qui i genni passano se parlano delle evoluzioni questo e quell'altro però tu qui i fatti i fatti i fatti duenno porca troia e niente questo è tutto è durato fin troppo sto video ma oggi ci tenia a dir parole perché un mucchio le cose che non vanno e un mucchio le stronzate detti anche e niente questo è appuntamento alla prossima sempre 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 forza roma però dammo c'è una sterzata in avanti e non indietro magari